bisogna circoscrivere un pochettino l'incendio si è verificato un grave problema tecnico con una cassetta di derivazione chiunque le si avvicini rischia di restare folgorato ripara la cassetta di derivazione il prima possibile e occupati degli eventuali feriti mamma mia come affogo tutto il raga che cacchio faccio ok pausa dunque vediamo un po la situazione a disposizione scendete il moso cavolo si guarda qua troppa gente ci sta per i miei gusti ci penso io cosa c'è una pompa spegnete questo considera l'ho fatto cosa c'è e cosa c'è se riesco a pigliarli sì signore presente si considera l'ho fatto anzi spegni questi o sì signore allora andiamo un po arrivato poi c'è il polisoccorso storico il polisoccorso storico facciamoli scendere e spigliate la manichetta forza spegnete quest'auto oppure no spegniamo gli edifici va spegniamo gli edifici che già la situazione è quella che è sì signore mamma mia qua ho a fuoco di tutto qui va a fuoco leggermente tutto ci dovrebbero essere altri pompieri qua ok presente mi ha da manichetta manichetta anche voi due non dovesse essere di più signore anche dubbia manichetta non riesco a selezionare sto tizio a disposizione capito ok manichetta pausa allora voi andate a spegnere questa autovettura bella questa te spegni questo tu che cacchio stai a fa' o lo spegni questo mo vediamo ragazzi allora questi pieno le manichette spegni questo spegni questo tu a disposizione spegni questo si spegni la spegni qua ok perfetto ah la cassetta medica mannaggia mo sono dimenticato cacchio oh mio dio no no mi prego non passate no dio no guarda lì quanti cacchio stanno passare non ci credo ok si una strage una strage no una strage oh meno male che sono soffermati oh meno male che tornano indietro ci penso io oh non mi avvicinatevi per carità mamma mia una strage ci scoppiava qua io ho troppo troppo intenzionato troppo qui a pensare all'incendio e mo so proprio dimenticato allora carro attrezzi due si signore vuoi tre si ok vuoi tre si e che ne potete entrare si ma cacchio si fa cosa c'è che ci posso mandare quelli ad quelli storici cosa c'è cosa c'è e c'è che vorrei che ve ne andate a disposizione si ho capito chi c'è qua allora ah questi sono quelli storici ok allora voi tre potete rientrare nel vostro mezzo tu vai qua tu vai qua tu vai qua ok piano piano poi vediamo ok vediamo un po' che combinano allora scatola qui dell'attrezzi come t'ha posto si può passare si può passare già motevo cura no era meglio se mandavo l'eliambulanza me sbrigavo prima vabbè allora mandiamo a casa chi c'è da mandare consideralo fatto esadiuti capito cosa c'è si si signore mandiamo a casa chi c'è da mandare a casa si ok a disposizione si certo me ne manca uno dove sta ah eccolo qua si ok non mi ricordo uno di questi allora qui come è la situazione eccoli qua in attesa di ordini presente in attesa di ordini ok ok raga ok che cacchio fa scendere in attesa di ordini si signore si qualcuno a questo cosa c'è dove è l'altro si ok si ok si da posto bene dovrebbe arrivare dove cacchio è in attesa di ordini presente dove i carattrezzi stanno arrivando va bene ok ok in attesa di ordini a disposizione corno alla base a posto a disposizione corno alla base ok si vai via vai via subito ok dovrebbero arrivare i carri attrezzi a disposizione ok presente prendiamo l'altra macchina consideralo fatto perfetto qui bene cosa c'è consideralo fatto tu vai qua tu vai qua tu vai qua ok dai è stato un po' complicato ma ce l'abbiamo comunque fatta andate dentro le vetture lo cacchio andate lo sapete solo voi tornate alla base ok qui stanno caricando i mezzi l'ambulanza sta portando il terreno ognuno va per i cavoli suoi perfetto alla fine ce l'abbiamo fatta dai abbiamo abbiamo sistemato pure sto problema posso già comprare qualcosa no si carro attrezzi un altro oppure drone antincendio autopompa serbatoio vediamo un po' ecco tutti che arrivano belli puliti 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 ok capo medica i feriti e rimuovi i veicoli distrutti a disposizione ok giusto giusto mandiamo le due autopompe va presente devo anche rimuovere il veicolo subito ok veloce come la luce più veloce della luce attenzione per cause ignote una nave è andata a fuoco diversi membri dell'equipaggio si sono salvati dalle fiamme saltando in acqua ma sono ora a rischio di annegamento estingui tutti gli incendi e salva l'equipaggio proprio dietro l'angolo poi aspetta dunque ok qua consideralo fatto ok no anche qua vai qua subito ok ci voglio ci mandiamo stavolta gli elicotteri ma non ci ho voglia di star lì mandiamo due elicotteri consideralo fatto ok va bene l'auto in fiamme che posso comprare? autopompa serbatoio fatto ok intanto sono arrivati due elicotteri a disposizione scendete uno qua si e uno quasi ciao fai ok veicolo in fiamme vai spegniamo il veicolo in fiamme perfetto qui abbiamo ancora la nave in fiamme intanto facciamo scendere tutti ma ok eccola lì la barella perfetto in attesa di ordini ok mettiamo questo in attesa di ordini questo qua qua si si ok si si pare che ce la famo no impossibile a disposizione in attesa di ordini ok com'è qua la situazione ok piedi sto veicolo bravo trapassa proprio ok spegni l'incendio ok no cacchio vai per spegnere l'incendio ah più vicino ah mi raccomando in attesa di ordini subito ma sta spegnendo qualcosa boh dov'è la lancia motore eccola qua nave in fiamme a disposizione scarica forza ok torno alla base torno alla base a disposizione a questo va più a questo scaricalo ci penso io perfetto a disposizione vai qua tu vai qua tu vai qua perfetto torno alla base ci penso io ok già vamo ok sì ok ma a disposizione a disposizione capito in attesa di ordini subito ci penso io e ci penso io il cavolo ci penso io sì va bene ragazzi perché questo qui non riesco a selezionarlo teoricamente ci pensano loro da soli in caso vediamo in attesa di ordini presente in attesa di ordini certo sì signore dai pigliatolo perché io non ci riesco di ordini non me lo fa selezionare raga bella questa eh vediamo se metto veloce ma che ma che non me lo fa selezionare ora si aspetta oh aspetta aspetta diverse persone hanno subito un'intossicazione alimentare al festival occupati delle vittime potresti perfino scoprire il responsabile del cibo contaminato e arrestarlo che se riesco a selezionare questo sono già contento ora mi incacchio e dai e però bug su bug manneggia potrebbero anche rilasciare qualche patch non ci riesco ah finalmente o no no problem sicuri subito eh vediamo eh miracolo dell'arte moderna manneggia ale miracolo eh allora ragazzi ci fermiamo noi qua in realtà spero che questo gameplay vi sia piaciuto anche se vi devo dire ragazzi che più si va avanti e più i bug se fanno vedere veramente c'è sono un po un pochettino decisamente fastidiosi senza i bug sarei il doppio veloce mi sa allora portiamo questo alla base e finiamo qui la questione quindi ragazzi spero che il gameplay vi sia piaciuto come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su cosa c'è no problem ok quindi andiamo a scaricare questo ed è finita poi nel prossimo gameplay continuiamo per comprare incidente automobilistico tamponamento a catena salva i conducenti dei veicoli distrutti occupati dei feriti e sgombra il luogo dell'incidente va bene ragazzi ricorda di tenere d'occhio il tuo elenco attività per sapere cosa fare si signore allora ragazzi quindi vi saluto ho consegnato tutto va bene va bene lasciamo un po' potremo estrarre i conducenti dai veicoli solo dopo aver spento le fiamme ho capito va bene allora ragazzi vi saluto ciao alla prossima ciao